In questo allenamento di MP Trainer impareremo ad eseguire correttamente gli slanci all'indietro. L'allenamento è composto da slanci all'indietro alternati da pause. L'allenamento è di circa 2 minuti e mezzo. Buon allenamento! Inizia gli slanci con la gamba destra. Ammortizza il movimento sulla gamba sinistra e porta indietro il piede destro. Il piede destro sfiori il pavimento. 5, 4, 3, 2, 1, cambia gamba. Incline il corpo leggermente in avanti. Mai nei fianchi o braccia a 45 gradi verso il basso. 5, 4, 3, 2, 1, pausa. 10 secondi di pausa. A termine della pausa riprendiamo gli slanci indietro. Riiniziamo con la gamba destra. Ammortizza il movimento piegando leggermente la gamba sinistra. Incline il corpo in avanti. 5, 4, 3, 2, 1, cambia gamba. Destra in appoggio e sinistra indietro. Contrai gli addominali e non inarcare troppo la schiena. 5, 4, 3, 2, 1, ultima pausa e riprendiamo l'esercizio. 3, 2, 1, gamba destra, mani ai fianchi e corpo leggermente inclinato. Ammortizza bene il movimento sulla gamba sinistra. 5, 4, 3, 2, 1, cambia gamba. Destra in appoggio e sinistra indietro. Movimento fluido e sincronizzato. 5, 4, 3, 2, 1, il tuo allenamento è terminato. Si �rée anche commenti. 5, 4, 1, il tuo allenamento è terminato. 6, 1, il tuo allenamento è per la torre. 5, 1, il tuo allenamento è il suo corpo allo. 6, 1, il tuo allenamento è consommato per il tuo muro. 9, 1, �角 Bieber. 8, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 1, الس Unseremo alle nuovelle. 9, 1, 1, il tuo allenamento è rosa. phenomena è занимata per il tuo Wy synt Baby. 8, 1, il tuo allenamento è per la corale. 8, 1, iscrime questo mondo.